Ora vi porto a fare un giro con me sulla 208 T16 Una macchina che sulla terra bisogna guidarla in maniera un po' sovrasterzante Inizio curva, tornante, mi aiuto di freno a mano, seconda, attraverso e via apro il gas in accelerazione facendo un po' di controsperce Inizio curva, attraverso e si va via in accelerazione Terza, quarta, dorsio Un po' di perdita d'aderenza perché sul salto alle ruote hanno un po' alleggerito Abbiamo anche dei differenziali rispetto alle macchine stradali che ci aiutano molto nella frenata Che bloccano le ruote sia il treno anteriore che il treno posteriore Ancora tornante, mi aiuto col freno a mano Musso all'interno ed in traverso Cosa dicimo? Sei bravo? Musso all'interno e di traverso